Let's go! Buongiorno a questo video, in questo caso è un vlog, non lo facevo da tantissimo tempo, ora si ho i capelli fatti quindi molto meglio, non sto più male, diciamo sono guarito finalmente e posso fare questo video in cui volevo parlarvi di come poter iniziare a giocare con Peddive darvi qualche consiglio, cosa serve eccetera eccetera allora per prima cosa partiamo comunque dalle periferiche che servirebbero per giocare con Peddive in realtà non serve un joystick se state iniziando perché un joystick per esempio uno Scoop Gaming costa tanto, costa sopra i 150€ e avere un controller del genere comunque non è sempre la scelta migliore da comprare all'inizio quindi non è una cosa proprio che influisce tanto una cosa che influisce tanto non sono nemmeno le cuffie perché comunque potrete attaccare al vostro controller della PS4 tramite la presa USB della vostra PS4 qualsiasi tipo di cuffie io per esempio sto aspettando le mie Kraken e le Black Shark per provarle della Razer che sono ottime cuffie che usano molti team in LAN ma allo stesso modo quello che vi posso dire io se dovete comprare una cosa all'inizio, non queste due, ma è un monitor un vero monitor, tutti i giocatori giocano su un monitor, i giocatori professionisti giocano su un monitor che va da un massimo di 24 pollici a un minimo di 22 pollici perché per prima cosa queste sono le misure standard di quando si va a giocare un evento LAN LAN vuol dire torneo offline dove tutte le console sono collegate con il cavo Ethernet quindi non c'è una connessione, non c'è diciamo un ritardo o qualcosa del genere se non quello del gioco e ovviamente quello di input delle periferiche come il controller, come lo schermo e così via è per questo che serve uno schermo performante il mio consiglio è di comprare un BANK in questo caso magari l'RL24 che costa su 160€ se no comprare magari un ASUS che comunque può essere sicuramente un ottimo monitor allo stesso tempo basta che abbia un tempo di risposta bassissimo che va da un millisecondo ad un massimo di 3 millisecondi non comprate cose di più specialmente gli schermi LED danno dei problemi incredibili quindi evitate se potete più lo schermo è grande tra l'altro più giocherete peggio perché sia per un fatto che dovrete stare più lontani sia per un altro fattore che è quello del ritardo come vi ho detto che c'è il cosiddetto effetto nave come lo chiamo io che quando giocate voi per me da sinistra è il diciamo vedete sullo schermo un pelino dopo che prende il comando subito a sinistra oltre a questo una delle cose più importanti dopo sono sicuramente le cuffie e il controller se ovviamente se utilizzate uno scaf gaming avrete sicuramente dei vantaggi il vantaggio su uno scaf come in questo caso che ho già qui pronto è quello di non dover mai staccare il pollice destro dall'analogico e quindi di poter saltare, scivolare, continuamente seguire gli avversari e sparare in queste situazioni che è quello che succede molte volte che è il vantaggio che vi da avere un controller del genere potete minare mentre fate cose comunque combinate mentre state saltando mentre state facendo una wall run poi vi staccate saltando e mentre saltate continuate a salire sempre in altre sparate alla persona in modo che lui non vi possa prendere sono tantissime cose che vi possono avere un vantaggio e poi le cuffie le cuffie io ovviamente ho come vi ho già detto prima queste sono le mie Astro A40 TR Edition le Team Ready e sto aspettando le mie Razer che è il nuovo sponsor ma penso che l'avrete capito già dalla felpa e da tutte le cose che mi sono arrivato e questo è un piccolo intro su cosa vi servirebbe comunque per iniziare a giocare Competitive un'altra cosa molto importante è ovviamente voi quando giocate e quanto giocate Competitive si può giocare in due modi si può giocare in modo amatoriale per divertimento perché ovviamente c'è come dire faccio calcio mica devo giocare calcio per andare in Serie A posso giocare anche calcio perché mi piace come sport mi diverte e quindi voglio giocarci con i miei amici e mi piace sfidare nuove persone per questo esistono tornei esistono vari livelli di tornei esistono vari livelli di allenamento e allora per prima cosa partiamo dai livelli di allenamento allora bene per prima cosa quando fate una partita competitiva dovrete andare sulla console e impostare i settaggi ok bene siamo qui sulla console e ecco come fare per utilizzare i settaggi della God War League oltre ovviamente che andare su Arena che può essere un buon modo per giocare magari per chi ha le prime armi per chi si vuole avvicinare Arena però non è seria non è competitiva come è veramente giocare una partita privata ed è per questo che non andremo in partite personalizzate o chiamate anche private e in questo caso vi farò vedere come poter mettere i settaggi per prima cosa dovrete vedere i regolamenti i regolamenti però li troverete sui vari siti come Gfinity come omggaming.com gamebattles che però ne parleremo in futuro di questi siti quello di cui voglio parlarvi ora è delle varie mappe e modalità che potrete trovare googlando ovviamente su Google code world league settaggi o settings e troverete tutto comunque mettiamo una mappa per esempio breach e vogliamo mettere la modalità competitiva dobbiamo andare su cambia modalità di gioco postazione è una delle modalità competitive poi uplink poi ovviamente c'è anche cerchi e distruggi e infine abbiamo cattura la bandiera ovviamente vi basterà cliccare sulla modalità e fare cattura la bandiera lmc allora praticamente lmc vuol dire lega mondiale code è stato tradotto CWL quindi una cosa orrenda però vi basterà fare questo poi avviare la partita e i settaggi saranno messi quindi ora passiamo all'ultima parte cosa serve oltre a questo oltre a questa infarinatura per giocare competitive serve avere un gruppo di altre tre persone oltre a voi perché si gioca in una squadra non servono gruppi da 5, 6, 7 persone perché ovviamente si gioca sempre con le stesse persone poiché il livello di allenamento deve essere di tutti i player uguale bisogna giocare assieme e non serve avere un player con cui ci si scambia ogni tanto perché influirebbe tanto sulla diciamo il gioco di squadra sulla chimica e su tante cose riguardanti il team quindi ritorniamo subito al mio bellissimo faccione e proseguiamo bene allora oltre a questo dovete ricordarvi che oltre a come mettere i settaggi dovrete capire come cercare partite di allenamento per cercare partite di allenamento il mio consiglio è di andare su gruppi facebook come può essere deserto italia che vi ho scritto qui accanto alla mia sinistra cioè alla vostra destra quindi comunque oltre a questo dovrete cercarle anche su twitter twitter è una cosa importante per tutti i giocatori di call of duty che fanno competitive perché li aiuta a mettersi in contatto in comunicazione uno gli basterà scrivere scream scrim im una buona scream ora scream fra tot minuti scream full team cioè squadra piena eccetera eccetera per poter comunque mettersi in contatto ovviamente dovrete sapere chi seguire dovrete seguire i giocatori sia esteri che italiani perché le scream non si giocano solo contro i giocatori italiani scream vuol dire proprio partita di allenamento quindi i modi per cercarlo sono questi sono pochi non ce ne sono tanti attualmente ci sono tanti modi per giocare tornei ed eventi ma per allenarsi è un po' difficile specialmente è difficile ritagliarsi un nome quindi all'inizio sarà un po' difficile io vi consiglio quindi il gruppo deserto italia su facebook o se no di cercarla tramite twitter quindi fatevi un account twitter guardate pure i giocatori grandi che seguite o quelli piccoli comunque cominciate a informarvi perché twitter vi dà molti aiuti vi aiuta pure se voi cercate la parola scream e poi code vicino magari vi può aiutare a far vedere un pochino di player e giocatori comunque stiamo per arrivare alla fine del video io non posso dirvi tutto quello che voglio su come iniziare a giocare competitive qui su questo video questa è una piccola infarinatura su come poter cercare una partita quelle che sono le periferiche di base e così via ma ovviamente andremo più nel dettaglio e continuerò a spiegare altre cose nel prossimo episodio per esempio dove trovare i tornei come poterli fare un team da cosa è composto queste persone che ruoli devono fare eccetera eccetera in base a ogni singola modalità io spero vi sia piaciuto questo video spero che mi aiuterà a iniziare questa strada che magari può essere molto divertente e bella per voi una cosa vi chiedo è di mettere like a questo video e di farmi sapere se volete che continui con questa serie riguardo il competitive e se volete che vi spieghi anche ovviamente tutte le cose che mancano questo è l'episodio 1 ce ne devono essere sicuramente altri che vi portano ad avere una conoscenza completa di come poter iniziare a giocare competitive io sono power vi saluto ci becchiamo al prossimo video let's go purchase